ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa per questa ricetta noi utilizzeremo questo stampo al silicone voi potrete utilizzare un qualsiasi stampo del diametro di 24 26 centimetri che andremo ad ungere con il nostro staccante per teglie gli ingredienti sono farina fecola lievito per dolci vanillina nutella cacao yogurt bianco olio uova e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo andando a inserire la farfalla all'interno del boccale versiamo le uova e lo zucchero e andiamo ad amalgamare per quattro minuti a velocità a quattro adesso aggiungiamo l'olio e la nutella e amalgamiamo il tutto per tre minuti a velocità quattro nel frattempo preriscaldiamo il forno a 170 gradi in modalità statica adesso aggiungiamo un pizzico di sale al nostro impasto il cacao la farina e la fecola e facciamo amalgamare per un minuto a velocità quattro adesso aggiungere il lievito per dolci la vanillina la vanillina finiamo un attimo sul fondo un po' e amalgamiamo per un altro minuto sempre a velocità quattro l'impasto è pronto andiamola a trasferire nel nostro stampo che abbiamo precedentemente unto con lo staccante per teglie adesso andiamo a infornare a forno statico preriscaldato a 170 gradi per 45 minuti e poi faremo la prova a stecchino per verificare la cottura ciambella alla nutella grazie e alla prossima ricetta grazie